Quante volte l'avete insultata? Oh, la vedo che non si può distruggere! Che bello è quando la vedo che distrugge te! Perché mi avete messo in carcere e non ho fatto niente! Avevo anche... Gabby, sei il poliziotto! Sono il poliziotto? It's a me, your poliziotto! Ehi, facci uscire! Facci uscire! Non abbiamo fatto niente! Eeeh, z'aprita! Oh, andiamo, andiamo, andiamo! Ok, bene, fermi tutti! Fermi tutti! O sparo, ricordo che io ho un grande e grosso fucile! Non ho paura di usarlo a male, tipo così! Oh, fermo! Mi versavo, sto solo giocando a un 2-3-3! Fermo, Isaac! Tu sai che là si trova il mio segreto, Isaac! E nessuno! Ripeto, avete già rifatto il mondo dei bambini! Avete già rifatto... Oh, oh, oh! Venite qua! Cosa? Uccidilo, uccidilo, uccidilo! Scusami, Indy! No, povero io! Voi non entrate, scusa! Indy voleva andare nella mia zona armi, cioè... Ma si rende conto? Come va là sotto? Isaac, guarda che ho, c'ho il mirino in testa! Cosa? Butta l'arma, Isaac! Ok, va bene! Buttala! Come si butta? Con G! Ok? Ok, perfetto! No, no, indietro la devi buttare! Ok, va bene! No, apro la porta! No, 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 fermo! Dove sei cutie? Cutie là in fondo, la vedi? Cutie vieni! La dove c'è la gabbia! La dove c'è la gabbia! Eh, sono rimasta incastrata! No, vieni qua! Devo usarti come scudo umano per proteggermi! Signor polizietto, sono rimasti incastrata! Aspetta, posso uscire io! Posso uscire io! Non con quell'arma! Butta la... Ah, è vero! L'ho raccolto! Posso uscire? Ok, apro! Ora, ora sì! Ok, allora, aspetta! Da che parte... No! No! Cutie sei inutile! Sei proprio inutile, chiudi! Dove stai? Era una dannata drabbola! Ti mostro il mio mondo di Minecraft, dato che volete tanto griffarmelo, ti mostrerò ciò che non potrai mai griffare. Guarda che bello, qua si trova l'alberello Lello. Saluta l'alberello Lello! Aspetta, quale dei cinque? Lui parla, aspetta un secondo. Ciao! Sono l'alberello Lello! Perché hai fatto questo al mondo? Non sai che io mi chiamo anche Gaia, il pianeta che vive? E voi picchiate sempre noi? Vado a chiamare un'ambulanza! Vado a chiamare un'ambulanza! Ah, scherzavo, scherzavo, scherzavo! Torna qua! Ho un'idea, giochiamo a calcio, partita Italia-Norvegia, quella che abbiamo perso, ok? Italia-Svezia! Una regola, se tu mi fai gol, ti do l'arma e puoi uccidermi. Ok, va bene. Ma se dovessi perdere, sarò io ad uccidere te, ok? Adesso arrivo! Sei by Gigi Buffon! Mamma mia, io mi chiamo Gigi Buffon, ma non farò il buffone! No! Ti farò un mufflone di punti! No! 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 Mamma mia, ti mostrerò come fare i gol! No! Ma è successo come Italia-Svezia! Dai forza, sgancia l'arma! Sgancia l'arma! In realtà era tutta una minzione, adesso sparisco in una nuovoletta di fumo! Addio! Aiuto! 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 Allora, signor prigioniero, è arrivato! Aiuto! 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 Dai, dai, dai! Veloce, signor prigioniero! Le presento un nuovo alberello, si chiama alberello Lullo. Guardi, sa parlare. Ciao, sono un alberello! E sto copiando Gabby, per qualche motivo! Adesso, lei deve sopravvivere qui per un minuto! Come? Cosa c'è? Mi lanci i mostri di Minecraft? Le conviene scappare! Perché? Aiuto! No! Oh, cavolo! Ma sei tu che la muovi? Impariamo a guidare con Gabby! Prima di tutto si... Ti dico una flash così non sai colpirmi! Oh, cavolo, ma non posso andare nel box! Oh, cavolo! Oh, cavolo, io esco! Non posso uscire! Oh, cavolo! No! Vai là! Vai là! Qua? Qua? Sì! Ok! Ma io sono il tuo cocco, Indy, perché io ti corrompo! Sì, il tuo libro lo venderemo assieme, Indy! Chiuti alla! Chiuti alla, Indy! Lo vedo! Ecco! Bravo, Indy! Bravo, Indy! Doveva abbassarlo! Doveva abbassarlo, Gabby! Giochiamo a un 2-3 stella! Te fai... Chiuti alla... Oh, no, dove hai? Ah, eccolo, Isaac! Chiuti alla... Te fai un 2-3 stella qua e noi ci mettiamo qua in fondo e dobbiamo raggiungerti, ok? Va bene, allora, se siete più vicini di questa linea, vi sparo. Bello questo gioco! Il gioco via le regole! Va bene, va bene, va bene, va bene! A un 2-3 stella! Aiuto, non fido niente! Però è troppo veloce così! È il mio gioco, è il mio e le regole! Hai qualcosa da dire, prigioniero? No, no, perché ti stai muovendo! Mmm, hai qualcosa da dire, prigioniero! No! Mi è partito, mi era venuta troppo forte! Sì, 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 sì! Perché stai prendendo il sole? Lo ho fatto per te, Isaac, che il prossimo coltellato lo ucciderà! Uno, due, tre, stella! Oddio! Dove sono finito? Aiuto! Non lo so! Cos'è questo posto? È la tua ora! Ah, ma no! No, te lo so il vetro! No! Non è giusto! Ragazzi, ma se io mi craft un'arma, adesso metto un coltello, e coso, e crea una crafto! Crafty, succede che ti arriva un proiettile, giusto, giusto, non... Testa! Cosa fai tu? Non stavo facendo niente! Eh, noi siamo i tuoi amici! Se vuole diventare il mio Pokémon di fiducia, deve fare una cosa per me! Dopo questa, può ricevere tutte le armi che vuole! Signor Gabibbo! Allora, Gabi, hai una possibilità per accettarlo! Nel momento di distrazione più vulnerabile, ok? Noi crediamo in te! Cos'era quella? Indy! Quello è il trampolino! Più alto vai, più difficile diventa! Oh, cavolo! C'è quello giallo! Proprio quello alto alto, vuoi? Devi centrare il coso, devi centrale! Ma è facilissimo centrarlo! Eh, quello giallo! Se non lo senti, mi sparo, eh! Se non lo senti... No! Ok, va bene! Prendo la rincorsa, Indy, ok? Vai, vai! No! Come ho vissato! No! Ok, va bene! No, Indy, guarda che... Tu devi salire! Eh, vieni! No, no, sali tu! Io sono qua! Vero! Ciao, Indy! Ti ho fregato, Indy! Ti ho fregato! Ah, Indy, sai cosa faccio? Non mi serve più la tua schifosi sia pistola! Ecco te la! Adesso apparepedo Indy da lì! No, l'orchi è coltellato! Ma quanto mi doveva! Vi siete meritati l'inferno per quello che avete fatto prima! Mi avete tradito! Ma adesso... Adesso è tutta un'altra storia! Adesso vi mostro... Io ho il nether! Bravo, ti tremano le mani! No, sto cercando il signor Isaac che è scomparso! Vabbè, prima o poi lo troveremo e lo tortureremo! Intanto i... Dovrai prima o poi venire a prendere il tuo amico Indy! Che si nasconde dietro i portali! Ti vedo! Ora guarda il gioco! Ci sono tanti giochi! Quale vuoi? Il gioco... Oh, rischio la vita e cado in un posto di lava! Oh, oh! Vado nel... Turbine della morte! Quale vuoi? Oh, il turbine della morte! Ottima scelta! Non ho un'arma! Sì che ha un'arma! No! Mi ha ucciso, signore! Allora io ucciderò Indy! Indy entra! No! Indy entra! Ho vinto io! Rosso, verde! Ho vinto io! Ah, pensavo che tu devi andare nel frullatore, invece è la ruota! Allora, va bene, facciamo un gioco! Se è verde, ti lascio in dita! Oddio! Voi non sapete quanto mi sono avvicinato allo schermo per mirare! Dove cacchio è? Allora, in riga! Ora dovete fare un salto! Fate un salto! Bravo! Due salti! Ora dovete mettervi uno sopra l'altro! Eh, io sopra! Ora dovete accoltellarvi! Quello sopra deve scorreggiare! Ahahahah! Allora, vediamo chi è all'IQ più alto! Chi ha l'intelligenza più alta tra voi due! Lo scopriremo adesso! Allora, che colore sceglierò? Boh! Non lo so! Oh, bravi! Bravi, bravissimi! Però adesso, guarda, è facile! Questa è l'easy! Poi vediamo l'intermedium! Oh, oh! Chissà quale è! Aiuto! Il è un minicu più basso! No! E se ne vinci un'altra vincerai un'arma, ok? Questo! No, ma questo è difficile! Non lo voglio farlo! E allora fai questo! Voglio fare il cubo della morte! Il cubo della morte! Oh, è tutto della morte! Tu scegli tutti i più easy! La bedrock! Il nemico più forte di Minecraft! Uscirò a sconfiggerla! Devo resistere 5 secondi, non ce la farò! Ma cosa fa? Io non so! Adesso vedete, cliccate e io muoio! Ok, io clicco! Oh, cavolo! Guarda la bedrock! Muoi! Quante volte l'avete insultata! Oh, la bedrock non si può distruggere! Che bello è quando la bedrock distrugge te! No! Era solo una piccola pausa, ora continua Vai Pedro, vai Va bene, ti sei vinto Un'arma questa volta Io Io, prendi qua Ti ho dato una pistola Un colpo aveva sta pistola Bastardi Cavolo, ha fatto finta di non ce l'avere Aveva un colpo solo Come funziona sto gioco? No, hai attivato me No, togli, disattiva Disatterba Oh Oh It's like I got the weapons Gabi Non sai dove sono So dove sei Dove cavolo sei Dove sei Silenzio indiscente Ti ho visto sparare Così qua cutie che cavolo Sei qua Cosa L'incastrato L'incastrato Non posso muovermi Isaac Dove siamo? Ah salve Cosa dove Ti ucciderò Ragazzi Ragazzi questa volta non vi chiedo niente di troppo grande ma vi chiedo di presentarvi perché questo è stato il video insieme a chiusi rob Ciao Insieme a indie the wolf E insieme ad isaac Sono stati tutti i bravissimi prigionieri E loro verranno eseguiti uno ad uno con i pochi d'artificio Ciao E questo era tutto è come al solito Gabi pincia Ciao ragazzi Grazie a tutti.